Terminata l'avventura di Emanuele Cascione sulla panchina della Pistoiese, la società ha esonerato il tecnico, decisione presa a seguito dei risultati non soddisfacenti da inizio stagione e poi dalla sconfitta casalinga con il Forli di domenica scorsa. Al suo posto Luigi Consonni, già allenatore della formazione Juniors Arancione. Un cambiamento reso sì necessario poiché la svolta che la società si aspettava, ahimè, non è pervenuta. Sebbene questa decisione sia postata sotto ogni aspetto, in particolare sotto il profilo umano, voi tutti mi insegnate che nel calcio purtroppo sono dinamiche ricorrenti. Abbiamo ufficializzato l'esonoro di Mister Cascione a cui noi tutti auguriamo di poter proseguire quella che sicuramente sarà una carriera che non è rispecchiata dai risultati sicuro ottenuti. I punti da recuperare sono tanti e, come ha spiegato il direttore, vi è necessità di inanellare immediatamente dei risultati utili, consecutivi. Motivo per cui si è optato per questo avvicendamento interno con Mister Stefan Lehmann, col quale abbiamo un confronto giornaliero, anzi sarei dire anche due o tre volte, quattro volte, cinque volte al giorno, ci ha comunicati ovviamente il suo rammarico e il suo dispiacere per la situazione attuale e per i punti sinora in Cascina e per la posizione in classifica attualmente occupata. La posizione del signor Gianni Rosati è una posizione inamoribile che non è mai stata in discussione e mai verrà messa in discussione.